Abbiamo detto che, siccome la disponibilità a pagare è quella grandezza che misura il valore che abbiamo generato per un consumatore, deve guidare le decisioni di qualsiasi azienda che è driven dal consumatore, quindi che guarda il consumatore per definire la propria strategia, cosa che sicuramente Netflix e Disney fanno. Ora, come prima analisi, facendo questionare 8.412 possibili e attuali consumatori delle due piattaforme, vediamo che la mediana è 10.89 per Netflix, che è quel puntino rosso che vedete, ed è 15.23 per Disney. I due puntini neri e la riga sono il massimo e il minimo, chiaramente si potrebbe anche costruire, per renderle cose più complicate, una gaussiana che dice dove sono i vari consumatori. Ma diciamo che per adesso ci interessa sapere che nell'insieme il consumatore è disposto a pagare 10.89 per Netflix e 15.23 per Disney. Vediamo un po' se essere più ricchi, visto che è una delle domande che si è fatta quando si è fatto il questionario, cambia la disponibilità a pagare. Vedete che c'è un po' di trend in salita, però la verità è che 10 euro è un limite per molti, per tutti quelli diciamo sotto i 50 mila, ma poi anche uno molto ricco che guadagna 200-500 mila dollari, arriverebbe a 12 dollari, quindi non c'è grande differenza nella disponibilità a pagare rispetto a quanto si guadagna. Se guardiamo i tipi di film che guardiamo su Netflix, anche qua sì c'è un po' di variabilità, ma siamo sempre, diciamo, tra il 10 e l'11 e mezzo, 12, 11.54 per documentare. Anche qui vedete che, come vedete sotto, questi sono i 4532 consumatori di Netflix, quindi sanno cosa comprano e hanno un'idea di che cosa desiderano ed hanno una disponibilità a pagare per ogni genere. Quando è che c'è una certa variabilità? Quando andiamo a analizzare il numero di figli del consumatore attuale o del possibile consumatore, vedete che 10, quando 10.43 diventa 10.53, 11.48, 15 addirittura se hai tre o più figli. Quando la disponibilità a pagare aumenta, quindi quando è variabile rispetto a delle segmenti che abbiamo scelto, ad esempio qui abbiamo scelto di analizzare il numero di figli, vuol dire che c'è un segmento del mercato, in questo caso quelli con tanti figli, che non sono sufficientemente soddisfatti dal prodotto attuale. Netflix costa 10 euro, loro sarebbero disposti a pagare 15, pur di avere l'accesso a Netflix. Perché? Perché probabilmente il consumo che questi figli fanno in Netflix è ampio. E siccome i figli sono tendenzialmente giovani e ai giovani piace Disney, guardate la stessa analisi, cosa ci dice rispetto a Disney. Con tre o più figli io arrivo a pagare, arrivo adesso disponibile a pagare 24,59 dollari rispetto ai 15 di Netflix per avere un contenuto specifico. In questo caso cosa capiamo? Che Netflix ha un punto di debolezza rispetto al segmento tanti figli, perché offre chiaramente un panel di prodotti che non è coerente, che non è attraente come quello di Disney. Una cosa interessante anche che vedete, sempre guardando la parte dei tre o più figli, nel mondo di Netflix, dove il contenuto per bambini è un po' più standard, la lunghezza della retta non è altissima, si va da poco sopra 10 a poco sopra 16. Net Disney, che invece è un prodotto molto specifico, che può piacere o non può piacere, arriva a sotto 10, arriva fino a sopra 30. Ma tutte le volte che c'è della variabilità nella disponibilità a pagare in alcuni segmenti, c'è qualcosa che si può fare meglio per un consumatore non ancora soddisfatto. Ora, che cosa è stato fatto in termini di decisioni vere nel mondo reale? Beh, Netflix è salito nel tempo, oggi lo standard costa 12 euro e 12 dollari e 99, il premium 16, e invece Disney è entrato a un prezzo molto basso, addirittura all'inizio era 60-70 euro per un anno. Quindi la strategia di Disney è stata non di andare a prendere la disponibilità a pagare di un segmento specifico con i tre figli, ma è stato di andare talmente basso, come vedete qua, che addirittura il più basso della disponibilità a pagare del panel, quindi 5 dollari di chi non ha figli, è stato preso. Questo perché, beh, lo si capisce o almeno si può intuire la strategia di Disney che arrivava sul mercato molto dopo Netflix e molto dopo Amazon Prime e quindi ha voluto posizionarsi in modo di diventare velocemente il terzo. Come sapete, in ogni settore di solito la competizione è fatta da, in ogni settore competitivo ci sono tre grandi player, vedete era importante essere il terzo e guardate come la derivata di crescita dei consumatori è stata rapidissima grazie a una scelta di pricing, grazie al fatto che Disney ha deciso di prendere tutti i consumatori andando anche la disponibilità a pagare più bassa che c'era e questo ha creato una strategia diversa e ha creato un competitor credibile per Netflix. E' evidente che, come nel caso dei tre o più bambini di Disney, la disponibilità a pagare è guidata da ciò che il consumatore vuol fare per cui non è ancora sufficientemente contento, quindi non è good enough, cioè non si sente ancora che quello che gli dà quel prodotto è buono sarebbe disposto a pagare qualcosa in più per avere qualcos'altro. E qui vedremo nel prossimo video il caso Spotify e Amazon.